Parlare della passione, parlare della sofferenza, parlare della fragilità, in un periodo in cui siamo pervasi dalla prossimità con coloro che soffrono, con coloro che sperimentano la fragilità, nel momento in cui noi stessi possiamo essere stati toccati dalla sofferenza o dalla fragilità, è chiaramente una condizione particolarmente importante, particolarmente suggestiva. Però ciò che vorrei sottolineare è un altro elemento, vorrei limitarmi comunque a prendere una riflessione di tipo pedagogico dal brano del Vangelo che oggi leggiamo e vorrei soffermarmi in particolare su un passaggio, il passaggio in cui Gesù nell'orto del Getsemani, nell'orto degli olivi, chiede ai discepoli di vegliare almeno un'ora con lui e i discepoli per tutta risposta si addormentano. Ecco allora l'idea pedagogica che vorrei sviluppare. L'insegnante, l'educatore, il maestro funge da guida, accompagna gli allievi, accompagna i discepoli lungo un cammino che è il cammino della loro crescita, il cammino della loro crescita culturale e spirituale. Il momento in cui ci fermiamo, anche noi insegnanti, anche noi maestri, ci fermiamo a riflettere, ci fermiamo anche perché sperimentiamo un passaggio difficile o affrontiamo un momento importante anche all'interno della relazione educativa, è un momento in cui spesso sentiamo il bisogno che i nostri allievi siano con noi da tutti i punti di vista, che ci seguano, che siano pronti, vigili, attenti, volendo anche proattivi e talvolta ci capita e quando ci capita siamo grati che questo sia avvenuto. Ma può non accadere. È capitato a Gesù che i suoi discepoli non sono stati capaci di vegliare con lui neanche per un'ora. Però nel momento in cui Gesù ritorna dagli posto, li ritorna dai suoi e si accorge che erano addormentati, che giacevano dormendo, ecco che allora ancora una volta si comporta da maestro qual è. Cioè coglie l'occasione non tanto per redarguirli stizzito o buttar loro in faccia il proprio disagio, ma coglie l'occasione per un altro insegnamento. Ecco non siete stati capaci di vegliare con me neanche per un'ora. E questo è un insegnamento che gli apostoli dovranno tener caro, di cui gli apostoli dovranno far tesoro nel momento in cui capiterà anche a loro di sperimentare la solitudine, di sperimentare la fragilità, di sperimentare l'abbandono e persino di dare la vita, dare la vita per testimoniare il Vangelo. Ecco che allora ciò che è accaduto a Gesù, anche per la loro inerzia, potrà essere di insegnamento per coloro che in quel momento ti hanno fatto sperimentare quell'inerzia. E da questo punto di vista è importante che l'educatore, che il maestro sia sempre pronto a cogliere anche ogni occasione, anche quelle più critiche, più difficili, per lui più faticose, per portare un insegnamento che aiuti le persone a crescere, che aiuti le persone a proseguire sul loro cammino.